buongiorno quasi ogni giorno su internet ho delle recensioni o dei commenti comunque sui video e spesso mi trovo alle prese con con le persone che sanno un po tutto non so se vi è mai capitato sicuramente per quello che riguarda i cantieri ce ne sono tantissime ci sono tantissime persone che vengono e ti dicono io so fare questo io so fare quello e sembra quasi dal modo come parlano così che sia veramente così poi pian piano ti rendi conto con gli anni col tempo con l'esperienza che non è proprio non è proprio così e senza voler insegnare niente a nessuno ovviamente c'è sempre da tener conto una differenza che è quella tra l'essere sicuro di sé diciamo così e quella invece dell'essere arrogante l'arrogante è convinto di essere superiore agli altri mentre invece chi è sicuro di sé è convinto di non essere inferiore a nessuno è una è una sottigliezza ma è una sottigliezza importante è una sottigliezza che fa la differenza che fa la differenza soprattutto nei lavori che facciamo noi nei lavori artigiani che volevo in qualche modo proporvi riproporvi è una cosa che a cui tengo molto spero che insomma che i colleghi l'apprezzino soprattutto e che magari quando quando sia così l'approccio in cantiere si sta insieme per lavorare si cerchi insomma di capire quali sono le esperienze di ognuno e di sfruttarle al meglio per per fare un buon servizio e non quella di prevaricare nei confronti degli altri se siete interessati ai contenuti che sono sulla su questo canale iscrivetevi a solo vittura di massimo l'attanzi vi aspetto per il prossimo video